Provinciali in campo anche Valerio Longo, capogruppo consigliare di Forza Italia a Battipaglia. I vertici provinciali di Forza Italia, scrive Longo, mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi alle prossime elezioni provinciali. Il centrosinistra con la precedente amministrazione Canfor ha fallito su tutti i fronti. Se dovessi essere eletto, mi concentrerei soprattutto su due temi caldi, rifiuti e asi. Obbligherei l'amministrazione provinciale a riscrivere le regole del PTCP che incorpora il piano asi. In maniera da regolare, sottolinea, finalmente gli insediamenti di aziende e dei rifiuti sul nostro territorio attraverso l'approvazione del PUC. Non permetterei all'asi di condizionare pesantemente lo sviluppo produttivo locale grazie anche alla compiacenza della provincia, prona al sistema del Luciano che ha salvaguardato unicamente il capoluogo e i comuni dei propri vassalli. Infine, il capogruppo lancia l'aspicio, sarei la sentinella di battipaglia di tutte le varie comunità sul sistema rifiuti, incancrenito dal governo del centrosinistra che ha anteposto gli interessi di parte agli interessi delle comunità. Grazie. 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 Grazie.